Il Consiglio Comunale d'Introdacqua è stato sciolto. Il decreto firmato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è datato 11 ottobre, ma è stato pubblicato solo in questi giorni. Un atto meramente formale che va a chiudere definitivamente l'era di Cenzo, dopo le dimissioni dell'ormai ex primo cittadino che sono diventate effettive e revocabili tra scorsi 20 giorni previsti dalla legge. Il provvedimento del Capo dello Stato provoca la completa decadenza di sindaco, consiglieri e assessori comunali che erano già stati sospesi lo scorso 26 settembre, con decreto della Prefettura dell'Aquila, dopo la comunicazione pervenuta dalla Segreteria Generale del Comune sulla decorrenza dei termini per la revoca delle dimissioni del primo cittadino. Ne consegue che Maria Cristina Di Stefano non è più commissario prefettizio, ma commissario straordinario, sempre per scelta di Mattarella. Al commissario aspettano i poteri di sindaco, giunta e consiglio comunale. Il centro della Valle del Sagittario tornerà quindi alle urne della prossima primavera e per ora è troppo presto ipotizzare a qualche candidatura. Certo è che il commissariamento avrà anche pesato, non in modo incisivo, sui permessi che il Comune rilascia per lo svolgimento dei grandi eventi ai tempi della circolare Gabrielli. Non a caso la festa del ringraziamento quest'anno è stata annullata, ma questo merita un discorso a parte.